Capitano, c'è a bordo un uomo espulso da Hong Kong. Un espulso? Sì, signore. Chi è il misterioso personaggio imbarcato ad Hong Kong? Un clandestino o un eroe? Lei. Robin Hood. Sono io il capitano Grasso! Ma quando una paurosa avventura sconvolge la nave, la verità verrà finalmente a gallo. Guarda con le mani e putta nel fuoco! Provaci! Orson Welles, capitano senza gloria in Passaggio a Hong Kong. Lunedì alle 20.30 su Euro TV. Informazione per gli agricoltori. Se coltivate ortaggi, barbabietole, soia, le infestanti graminacee sono un grosso problema. Ora però c'è... Fusilade. Fusilade è un diservante di post-emergenza selettivo. Uccide tutte le graminacee infestanti e salva il vostro racconto. Fusilade agisce anche sui rizzoni. Uccide le graminacee sia annuali che perenni. In qualsiasi stadio di sviluppo. Ora potete diservare solo quando serve con Fusilade. Il graminicida intelligente. Lunedì, blazer. Martedì, principe di Galles. Ma lei che mi ha vestito tutti i giorni? Sì, sì. City Time. Abiti City Time. Il look intelligente. Sai qual è l'energia più comoda per riscaldare la casa? Il metano. Devi solo aprire il rubinetto e hai tutta l'energia che ti serve per la cucina, l'acqua calda e il riscaldamento. Senza problemi di rifornimento. E con il metano hai un risparmio sicuro. Vedi sempre quanto consumi e sai quanto paghi. Allora usa il contatore invece del serbatoio. Passa al metano. Il metano ti dà una mano. Ma non lo faresti tutti i giorni? Non posso. Ho la forfora. Ma sì che puoi. Lo shampoo tutti i giorni. È un bell'effetto. Effetto formula. L'antiforfora che ha maniere forti ma solo contro la forfora. Così delicato sui capelli che puoi usarlo anche tutti i giorni.